qua abbiamo la renna che si gratta perché si vede che ha purito ciao signorina grattati qua stanno mangiando si vergogna adesso che gli ha detto qualcosa non si gratta più però è tutto adesso che si grattava puoi grattarti e non si gratta si vergogna si vede vabbè ciao renne proseguiamo di qua guardate che meraviglia guardate che meraviglia viva viva andiamo a vedere la casa di babbo natale il cugino di babbo natale perché a rovanimi la casa di vero del vero babbo natale sarebbe esattamente fra due giorni questa qui è santa ward ci troviamo a santa ward nella più o meno a metà svestia diciamo così adesso andiamo a vedere che cosa c'è qua dentro siamo più o meno a meno 12 adesso andiamo vi porto a casa di babbo natale qua c'è la sua slitta al cugino poi di babbo andiamo a vedere venite con me venite con me eccoci qua eccoci qua eccoci qua qua ti fai sedere fare un aperitivo mangiare qua invece per tutti i bambini si scrive la letterina di babbo natale questo qui è la sua moglie adesso anche noi andiamo a scrivere la letterina questa è la sua moglie adesso è la sua moglie ma non è la sua moglie adesso è la sua moglie qua diciamo così qua eccoci qua guardate quante lette va bene a più tardi ciao